Posti contingentati, sanificazione delle sale, spettacoli anticipati per evitare il coprifuoco. Per il pubblico, misurazione della temperatura all'ingresso e mascherina sul volto durante la proiezione del film. Con il rientro delle marche in zona gialla e l'adozione di diverse misure di sicurezza, anche i cinema tornano ad aprire. Ad inaugurare la ripartenza in città ci sono le sale del Solaris e del Cinema Loreto, che per la riapertura hanno pensato a proiezioni gratuite e a sorpresa. Noi siamo un gruppo, facciamo parte di ACIC, Associazione Cattolica Esercenti Cinematografici, quindi riusciamo ad aprire perché siamo un servizio per la comunità, quindi non è un ente profit, ma è un ente no profit. Per cui riusciamo ad aprire in zona gialla con i posti uno sì e uno no contingentati, però è una speranza, vogliamo riaprire perché noi siamo appassionati di cinema, di cinema impegnato, per cui vogliamo riaprire con la speranza che questa sia la fine di questa pandemia. La voglia di tornare al cinema fa sì che faremo mercoledì una giornata noi, giovedì Loreto, con due film diversi, quindi darà la possibilità a tutti di accedere nuovamente al cinema. E sarà un'emozione perché noi personalmente abbiamo pianto, riaccendendo le mani, le macchine. Mentre da giovedì iniziamo noi con Minardi, Manc e Lezioni di Persiano, che comunque sono Cinema de Sé, candidati agli Oscar i primi due e alla Berlinata il secondo. Comunque rimaniamo sulle nostre linee di film impegnato. Chiaramente il bar sarà chiuso, quindi chiediamo la pazienza di non accedere per niente, chiederci acqua o quant'altro perché comunque rispettiamo le normative e alle 10 tutte a casa, perché iniziando alle 7, alle 10 riusciamo a essere a casa. Offriamo nel primo giorno di riapertura una serata gratuita, proprio per invogliare e incentivare la gente a usufruire delle sale cinematografiche. Apriremo il 29, giovedì 29, spettacolo unico alle 19, logicamente per questione di orari. Seguirà poi i giorni a seguire con Nomadland, quindi il film vincitore degli Oscar. Stiamo cavalcando l'onda dei film vincitori domenica scorsa di tutta una serie di premi. Gli orari sempre alle 19, con i festivi e i prefestivi aggiungeremo anche lo spettacolo delle 16.30. Questa è la seconda volta che ripartiamo, ricordiamo che noi già dopo la chiusura del 30 marzo del 2020 abbiamo timidamente provato a riaprire a settembre del 2020, è durato circa un mese e 20 giorni e poi siamo tornati con le condizioni di chiusura. Ancora ferme invece le sale Giometti, che in attesa di novità sulla distribuzione di nuovi titoli, contano più di 100 dipendenti in cassa integrazione. Stiamo aspettando la presentazione da parte dei distributori di questi film e l'idea che avranno loro, anche perché aspettano anche loro naturalmente per far uscire un prodotto importante, che ci siano molti cinema aperti, finché la situazione non è uniforme in tutta Italia, sarà dura avere una produzione e una distribuzione lungimirante, diciamo perché sarebbe mortale riaprire per poi richiudere. Le tappe sono quelle speriamo di aprire, se non a fine maggio, magari estate più avanti, a giugno, adesso vedremo proprio dopo la settimana la presentazione dei listini, per poi dopo essere pronti operativi al massimo, insomma, per la fine dell'estate. Novità importante per il gruppo Giometti è invece la riapertura, dopo il termine di contratto con UCI, della multisala La Torraccia. Questa è la novità di quest'anno, anche dell'anno scorso, che purtroppo l'abbiamo ripresa in capo ma chiusa. Stiamo lavorando per invece delle novità a livello distributivo delle poltrone, quindi delle poltrone un po' più distanziate tra loro, però non voglio svelare troppo perché sono sorprese che vorremmo dare al pubblico quando torna e un sistema anche di igienizzazione e sanificazione delle sale molto evoluto.